e arriviamo nella parte sotterranea zona chiamata cripta volevo ricordare a chi di voi ci segue anche sulla rete sul web che questa sequenza potrete vederla anche attraverso le nostre telecamere a 360 gradi che in questo momento sono in funzione quindi potrete girare con il vostro tablet e vedere con il computer il mouse insomma con tutti gli strumenti che ci mette a disposizione la tecnologia per vedere in ogni angolo questo luogo fantastico sì un luogo dove ci sono delle rappresentazioni veramente uniche un luogo dove probabilmente arrivavano dei pellegrini dei delle persone che volevano entrare qui a siena e potevano intanto ammirare queste immagini queste sono le immagini dei vangeli canonici immagini dei vangeli canonici dove per esempio vedete c'è un gesù deposto dalla croce con una scala sulla quale si trova addirittura maria un'immagine francamente poco conosciuta ma in questo luogo che ci racconta con i vangeli canonici la vita che conosciamo di gesù ci sono anche delle immagini di vangeli apocrifi che non raccontano qualcosa di proibito di segreto ma raccontano qualcosa che parla della vita di gesù non raccontata dai canonici come per esempio la sua infanzia questa è un'immagine molto bella di una gesù bambino che va a scuola e che viene ripreso vedete da un maestro con le mani incrociate che probabilmente lo sta redarguendo pensate questo luogo è stato scoperto solo nel 1999 dopo una serie di lavori è stato aperto al pubblico nel 2004